È partito dal 2 marzo, un servizio importante, sperimentale per quattro mesi sulla città di Ancona che trasporterà gli anziani verso i luoghi dei servizi sanitari. Ha un prezzo modico, un comodissimo pulmino dedicato, che è solo per loro, perché si può trasalire solo se si ha l'impegnativa della visita medica, è un modo per avvicinare i servizi alle persone. Sappiamo che spesso il tema che più viene citato come problema è quello di poter trovare qualcuno che ci accompagni fino al luogo dove riceviamo la visita. Sperimentare questa cosa in Ancona, vedere come va, diventa poi lo strumento per provare a stendere lo stesso servizio in tutta la regione. Se la sanità deve lavorare per centri sempre più qualificati, dobbiamo facilitare le persone, specie quelle anziane, a raggiungere questi centri. Un'ottima iniziativa grazie alla regione, a Condaro Servizi, al Comune di Ancona e l'Asur che insieme hanno ideato e realizzato questa opportunità per tutti quanti. Quindi l'invito adesso è utilizzarla, a sfruttarla, a provarla, perché se le cose dovessero andare bene poi diventerà qualcosa per tutti gli anziani della nostra regione.